Stati Generali del Vennin 2023, le interviste ai relatori continuano. Siamo in compagnia di Pio Lunel, il Presidente delle imprese di gestione del Vennin, che intanto saluto. Ciao Pio e bentornato. Buongiorno a tutti. Pio, ci sarà un tuo intervento nel corso della mattinata, saranno davvero tantissimi gli interventi nel corso di 4 ore e mezzo, 5 ore previste per le relazioni. Di cosa parlerai? Il mio compito in qualità di Presidente delle imprese di gestione sarà quello di esporre le problematiche che oggi il Vennin sta affrontando nel 2023, riferito ancora ai temi che stiamo trattando, la fine della pandemia, l'aumento dei prezzi, l'obbligo dei post sui distributori automatici, tutto quello che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi, i CAM che oggi sembra siano stati alla fine firmati, quindi tutti questi argomenti con cui ci stiamo relazionando, che stiamo affrontando. Questi interventi vogliamo far passare ai politici che avremo in sala tutto quello che noi oggi chiediamo a loro in modo da poter affrontare le sfide del futuro, quindi abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di tempo per far sì che le normative che oggi ci stiamo affrontando ci permettano di traguardare nel tempo queste cose, perché comunque sono investimenti enormi che noi dovremmo fare e dovremmo a questo punto avere da un lato le risorse e dall'altro il tempo e far capire che anche il nostro settore è un settore di nicchia che deve essere tenuto in considerazione da parte dei politici, che non ci possono sempre comunque assoggettare a altri canali distributivi perché siamo un canale distributivo particolare che necessita di una particolare attenzione, visto che 835 mila distributori installati è difficilissimo andare a installare su tutti questi, per esempio i POS, perché sarebbe un investimento enorme, anche perché questi significerebbe aggiungere un sistema di pagamento a tutti questi, non toglieremo nulla, quindi dovremmo permettere ai nostri clienti di utilizzare un POS che magari non utilizzeranno mai, comunque noi in tutti quei luoghi in cui necessitano i POS già ce li abbiamo installati, ci sono le app, ci sono i POS, ci sono le carte di credito, ma logicamente in un luogo chiuso dove la gente è abituata a consumare attraverso la chiave o attraverso l'app, è assurdo inserire un ulteriore sistema di pagamento che poi non verrà utilizzato, quindi fare gli investimenti tanto per farli per noi è antieconomico e a volte anche non sostenibile, visto che sappiamo che abbiamo dei distributori installati che incassano 2000 euro, noi dobbiamo considerare di mettere un hardware che costa 350 euro più tutte le commissioni che ne seguono, quindi questa sarà la mia richiesta di oggi, quindi un'attenzione al vending, un'attenzione a quello che stiamo facendo, un'attenzione a quello che noi dovremmo fare e un aiuto per la transizione ecologica e la transizione digitale che sono temi che dovremmo comunque affrontare. E noi ne parleremo prossimamente proprio sulla rivista Vending News, in attesa del 2024 e di Venditalia, la fiera internazionale biennale organizzata proprio da Venditalia Servizi di cui ci occuperemo nelle pagine della nostra rivista insieme appunto a tutti gli argomenti di cui abbiamo appena parlato. Pio Lunel, grazie. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.